Ciao ragazze e bentornate nel mio canale. Oggi secondo tutorial con le lettere dell'alfabeto. In questo tutorial andremo a realizzare la lettera S. Per le principianti vi consiglio di studiare per bene il tutorial della lettera G perché in quel tutorial vi spiego davvero passo passo la tecnica. In questo tutorial, come vi spiegherò dopo, sarà un po' diverso. Quindi vi lascio al tutorial. Ciao! Le lettere misurano all'incirca 3 cm. Come vedete sia la lettera S che la lettera G sono davvero molto piccole. La S con l'unica differenza che l'ho realizzata con il filo monofilamento di nylon. Infatti risulta bella, compatta e rigida. Per quanto riguarda invece la G, l'ho realizzata con il Miyuki per il tutorial e risulta al tatto un po' morbida. Quindi vi consiglio di utilizzare un filo monofilamento di nylon. Per la lettera S vado ad utilizzare sempre le rocaille della Toco e andrò ad utilizzare il numero 85, che è questa bellissima nuance dei toni del viola. Vi aggiungo subito che questo tutorial sarà strutturato in modo differente. Per chi è alle prime armi, vi consiglio di guardare il primo tutorial della lettera G, dove spiego passo passo la tecnica del cubic row. Per chi è alle primissime armi, per chi conosce già la tecnica del cubic row, sa già come formare appunto il cubetto al cubic row. Quindi per quanto riguarda questo tutorial dove andremo a sviluppare la lettera S, il tutorial sarà strutturato in modo differente. Non vi mostrerò passo passo come si realizza il cubetto al cubic row, ma vi dirò direttamente quanti cubetti realizzare passo passo passo. Per andare a costruire la lettera S. Il primo passaggio da effettuare è quello di realizzare 5 cubetti al cubic row, tutti quanti collegati tra di loro. Rieccomi, questo risultato è realizzato esattamente 5 cubetti al cubic row, tutti quanti collegati tra di loro. Questo è il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto. Mi ritrovo esattamente a fuoriuscire con il filo da una delle 4 perline qui del lato, vedete? In una delle 4. A questo punto mi ritrovo in questa perlina, rientro con l'ago in queste due perline, fuoriesco con il filo da questo punto. Adesso questa è la lavorazione, vado a realizzare altri 3 cubetti al cubic row in questi punti. Il primo cubetto andrà appunto in questo punto, il secondo cubetto andrà qui e il terzo cubetto andrà in questo punto. Quindi realizzo questi 3 cubetti al cubic row e ritorno da voi. Questo è il risultato, ho realizzato appunto i 3 cubetti, il primo, il secondo e il terzo cubetto. Mi ritrovo a fuoriuscire da questa perlina qui in alto e mi rinfilo esattamente in queste due rocaille che vengono subito dopo, in queste due. In questo modo, vedete? Sono ripassata in queste due perline. E adesso mi rinfilo anche in queste altre due perline. Adesso vado a realizzare in questo punto un altro cubettino al cubic row e ritorno da voi. Questo è il risultato, ho realizzato appunto il cubettino al cubic row e mi ritrovo a fuoriuscire esattamente da questa rocaille qui, esterna al lato destro del mio lavoro. Vedete? Questa qui. Rigirate il lavoro in questo modo. In questo modo. E andiamo a realizzare proprio in questo punto un altro cubetto al cubic row. Ho realizzato il cubettino ed eccolo qui, ve lo indico appunto con l'ago e questo qua. Mi ritrovo a fuoriuscire esattamente da una delle quattro perline, precisamente la perlina in basso al lavoro. Vedete? Adesso giro il lavoro in questo modo e vado a realizzare un altro cubetto in questo punto. Questo è il risultato, vedete ho realizzato anche l'ultimo quadratino di questa curva della S e adesso sono ripassata all'interno della lavorazione, ovviamente sempre rispettando la lavorazione del cubic row, ripassando appunto nelle crocette, nel senso giusto. E sono risbucata da questa perlina qui in basso. Questa qui centrale che collega questo cubetto all'altro cubetto, vedete? Vi rimostro di nuovo dove risbuco con l'ago, proprio da questa perlina qui. In questo punto qua, infatti, rigiro al lavoro per comodità, vado a creare proprio in questo punto un altro cubetto al cubic row. Dopo aver realizzato questo cubetto al cubic row, mi posizionerò nelle perline qui laterali, come queste, avremo appunto altre quattro perline qui, inserirò l'ago proprio in una di queste quattro perline laterali, per andare a realizzare un altro cubetto al cubic row collegato appunto a quello che adesso andremo appunto a realizzare. Quindi, primo step, vado a realizzare il cubetto, poi mi sposto nelle perline qui laterali a destra e vado a realizzare anche in questo punto qui un altro cubetto al cubic row. Io realizzo questi due cubetti e ritorno da voi. E' lo stesso identico passaggio che abbiamo effettuato qui, solo che adesso dobbiamo realizzarlo in questo punto. Un cubetto qui e un altro cubetto che andrà appunto esterno al lavoro. Questo è il risultato, ho realizzato appunto i due cubetti, questo è il primo e questo è il secondo. Mi ritrovo sempre a fuoriuscire con l'ago e con il filo da questa rocaille qui in basso, vedete? E vado a realizzare in questo punto e anche nel secondo punto altri due cubetti. E infine andrò a realizzare anche un terzo cubetto qui interno alla lavorazione. Quindi una volta realizzato appunto il secondo cubetto su queste perline qui in basso, vado a posizionare l'ago e con il filo all'interno del lavoro, sempre nelle quattro perline all'interno del lavoro, e vado a realizzare in questo punto un altro cubettino al cubic row. Quindi realizzo questi tre cubetti e ritorno da voi. Questo è il risultato, ho realizzato appunto i tre cubetti, questo è il primo, il secondo e il terzo cubetto. Mi ritrovo a fuoriuscire da questa perlina qui, che collega questo cubetto al secondo cubetto, questa perlina qui centrale dove fuoriesce il filo. In questo punto andrò a creare un altro cubetto al cubic row e in quest'altro punto andrò a creare un altro cubetto al cubic row. Dopo con l'agol con il filo mi posiziono nelle perline interne alla lavorazione, quelle poste in questo lato, per andare a creare un terzo cubetto in questo punto, proprio come abbiamo fatto in questo passaggio qui. Solo che andremo a realizzare un cubetto qui, il secondo cubetto qua e il terzo cubetto qui, all'interno appunto della lavorazione. Eseguo questi tre cubetti e ritorno da voi. Questo è il risultato, ho realizzato appunto questi altri tre cubetti, il primo, il secondo e il terzo. Adesso mi ritrovo a fuoriuscire sempre da questa perlina centrale, che collega questo cubetto al secondo cubetto. e anche in questo punto andrò a realizzare di nuovo un cubetto in questo punto, un secondo cubetto in quest'altro punto e un terzo cubetto collegato appunto al laterale del secondo cubetto. Questo passaggio identico dobbiamo realizzarlo per altre tre volte, quindi per un totale di tre, sei, nove cubetti totali. Quindi realizzo questi nove cubetti e ritorno da voi. Questo è il risultato, vedete, ho realizzato appunto i nove cubetti, ve li indico con l'ago, questo è il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo, l'ottavo e il nono cubetto. Abbiamo realizzato questa lavorazione per cinque volte, vedete, qui abbiamo realizzato i due cubetti e poi primo rigo, secondo rigo, terzo rigo e quarto rigo e il quinto rigo sono tutti e cinque righi con la medesima lavorazione. Vedete? Va tipo a scaletta a scendere la lavorazione. Vi giro la letterina così vi mostro anche che punto siamo con la S. Abbiamo creato appunto la prima curva, poi questa parte, adesso non ci resta che creare l'altra curva per completare la nostra S. Adesso mi ritrovo a riuscire da, con l'ago e con il filo, da questa perlina qui, sempre quella centrale che collega questo cubetto al secondo cubetto. E in questi due punti, solo in questi due punti, andremo a realizzare un cubetto in questo punto e un secondo cubetto in quest'altro punto. In pratica andremo a rifare di nuovo la curva e andremo a rifare, vedete, questo passaggio qui, dove ci sono presenti i due cubetti, noi lo andremo a rifare in questo punto. Quindi realizzo questi due cubetti e ritorno da voi. Ed ecco qui i due cubetti realizzati, il primo e il secondo. Adesso vado a realizzare una fila di sei cubetti, tutti e sei collegati tra di loro. I primi due saranno appunto realizzati in questo punto e il secondo punto e poi il resto dei cubetti, gli altri quattro, saranno realizzati nella parte interna del cubetto che andremo appunto a realizzare. Quindi ci andremo a posizionare nelle quattro rocaille equilaterali del cubetto per andare a realizzare le altre restanti quattro cubetti per un totale di sei cubetti. Quindi realizzo questi sei cubetti e ritorno da voi. Questo è il risultato, vedete, ho realizzato appunto questi sei cubetti tutti quanti collegati tra di loro e appunto stiamo realizzando la curva in basso per poter realizzare la S. Se ci fate caso e girate appunto questa letterina, può essere tranquillamente anche un 2. Quindi per chi volesse realizzare il numero 2, può tranquillamente realizzare tutti questi passaggi e aggiungere magari un cubettino, un altro cubettino oppure andare a replicare nuovamente questi passaggi e realizzare altri sette cubettini qui in basso per andare ad inspessire la parte finale del 2. Oppure può anche tranquillamente utilizzarlo così e aggiungere soltanto un cubettino qui alla fine per andare a rendere il tutto simmetrico. Vedete? Per finirla proprio nel punto giusto anche nella parte sotto rispetto a quella sopra. Continuiamo la lavorazione della lettera S quindi rigiro il lavoro, mi ritrovo a fiorisciere da queste rocaille qui laterali e mi risposto esattamente in questa rocaille che va verso il basso. Quindi sono nuovamente in questa rocaille, vedete? In basso. E mi risposto anche in questa perlina qui centrale e anche nella perlina questa qui. In questo punto andremo a realizzare altri 4 cubetti quindi un cubetto andrà realizzato qui, il primo il secondo andrà realizzato qui, il terzo e il quarto cubetto quindi realizzo questi 4 cubetti e ritorno da voi. Questo è il risultato, vedete? Ho creato anche i 4 cubetti qui in basso e adesso il mio ago e il mio filo si trovano esattamente in questa perlina qui questa perlina qui che sto indicando appunto adesso vedete? In questa perlina. In questo punto andrò a creare un cubetto al cubic row poi andrò a creare un altro cubetto qui collegato ai laterali di questo cubetto che andremo adesso a creare quindi due cubetti e poi su quest'ultimo cubetto che andremo a creare ne andremo a creare un altro su. In pratica andremo a ripetere questo passaggio qui, vedete? Andremo a ricreare questi due cubetti e il cubetto sopra. andremo a rifarlo anche in questo punto quindi un cubetto qui, un cubetto qua e un cubetto qui in alto per andare a riprodurre nuovamente questo passaggio. Vi eccomi, ho realizzato appunto i 3 cubetti e questo è il risultato. A questo punto l'ultimo passaggio da effettuare è quello di andare sul retro del lavoro infatti girate la vostra letterina e dove sono presenti questi spazietti qui vacanti andare ad inserire, vedete, in questo punto, in quest'altro andare ad inserire una rocaille 11.0 io già lo stavo effettuando questo passaggio vedete, tutte queste perline qui sporgenti che adesso vi indico con l'ago tutte tipo questa, la seconda, la terza, la quarta, la quinta, la sesta tutte queste perline qui sporgenti queste le ho inserite sia sul bordo esterno della lettera e anche nel bordo interno dove sono presenti le curve questo passaggio rende le letterine ovviamente compatte e stabili quindi creano struttura alla lettera vedete? è molto strutturata rispetto a prima che magari la parte questa qui in alto oscillava invece adesso è ben salda vi spiego in poche parole anche se questo passaggio ve l'ho mostrato ampliamente nel primo tutorial della lettera G però è semplicissimo basta inserire appunto la perlina la rocaille 11.0 e entrare appunto nella perlina che viene subito dopo in questi spazi qui vacanti inserire la perlina ovviamente dove la perlina possiamo inserirla tipo per esempio in questo punto quello che vi sto indicando adesso con l'ago in questo punto non è possibile inserire una rocaille 11.0 quindi passeremo soltanto con l'ago e con il filo attraverso queste due perline poi dove è possibile inserire la rocaille 11.0 inseriremo la rocaille 11.0 e poi andremo nella perlina che viene subito dopo vedete in questo nella parte interna della S in questo punto questo questo qui questo ancora questo qui in questi punti non è possibile inserire una rocaille 11.0 ma già ripassando con l'ago e con il filo all'interno e poi inserendo queste perline tattiche qua e là rendiamo davvero stabile e compatta la nostra lettera vado ad ultimare questo passaggio sul retro della mia lavorazione ovviamente come vi dicevo prima sia sui bordi interni ed esterni della lettera sempre sul retro e ritorno da voi con la lettera completata ed ecco qui la lettera S terminata questo è il davanti della lettera e questo è appunto il retro con tutte le perline inserite negli spazietti vacanti dove è possibile quindi effettuate che ne sono un screenshot per contare tutte le perline che ho inserito se può esservi d'aiuto però davvero è semplicissimo basta inserire le perline dove è possibile inserire una perlina 11.0 sui bordi interni ed esterni della lettera questa è la lettera come dicevo appunto terminata spero che il tutorial sia stato di vostro gradimento lasciatemi un like e un commento io come sempre vi saluto un bacione e alla prossima con nuove creazioni ciao ciao